Bloccare partenze, ieri ero in Russia a parlare con il ministro degli esteri della pacificazione della Libia per mettere intorno a un tavolo i tre protagonisti e fare un accordo come si fece in passato quando eravamo al governo per allestire là dei centri di identificazione, evitare le partenze, evitare le morti, evitare gli sbarchi, chiudere il rubinetto a monte, altrimenti il problema è se li sposti dalla Montello, nella caserma qua di fianco, sposti il problema di un chilometro. In questo momento l'emergenza è chiudere i rubinetti, bloccare le partenze, si può fare, basta volerlo, si può fare.